Dopo l'incontro con i sindaci è toccato ai giovani dialogare con il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, nell'ambito del cammino sinodale. L'incontro coordinato dalla pastorale giovanile diocesana è l'esito dell'iniziativa Ascolto della Tenda, che si è tenuta nella piazza di Torre Archirà a fine mesi estivi. Come nella precedente occasione, ma con protagonisti diversi, è stata un'occasione di confronto su diversi argomenti, l'ambiente, l'omosessualità, il fine vita, l'aborto. Ciò che ha animato il dibattito è stata anche l'età e il percorso di vita di ciascuno, dall'alunno delle scuole superiori, laureandi, giovani lavoratori, tra loro anche giovani disoccupati, atei di culto differente da quello cristiano. Oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere la bellezza del mondo con gli occhi dei giovani, ha detto così il vescovo Raspanti. È stata una bellissima conversazione, ognuno ha espresso con molta libertà, anche con allegria e simpatia, ma anche con profondità, il proprio pensiero, ovviamente giovanile. Mi è piaciuto molto perché mi avvicina molto a capire come si sta evolvendo la nostra società, e particolarmente i nostri giovani, che in gran parte frequentano le nostre parrocchie, i nostri gruppi. Quindi cosa importano dalla cultura contemporanea, in che modo tentano di filtrarlo alla luce del Vangelo, nella vita comunitaria della fede. Insomma è emerso un complesso di prospettive poliedrico non semplice, nel quale piano piano bisognerà fare ordine, ma crescendo insieme a loro e dialogando, forse anche ponendo loro qualche domanda che li faccia sempre di più interrogare, perché questo è tipico della loro età. A moderare l'incontro Chiara Costanzo, che ha descritto l'incontro con le parole di un maestro di arte, un quadro impressionista detto, fatto di schizzi con molteplici colori che mostrano un'immagine finale dell'unico mondo reale.